è Kafka. Quella dell'espressionismo deteriore e onanistico è il tipico racconto sperimentale letto in un corso post laurea di scrittura creativa. La seconda trappola è quella più insidiosa e terribile e il secondo film di David Lynch, Velluto Blu, l'ha evitata così clamorosamente che vedere il film quando uscì fu per me una specie di rivelazione, una bomba, tanto che dieci anni dopo ancora mi ricordo la data, il 30 marzo 1986 un mercoledì sera e quello che facemmo usciti dal cinema. Io e tutto il nostro gruppo di specializzanti dell'MFA, Master of Fine Arts, che di solito è un corso di due anni per laureati che vogliono scrivere narrativa o poesia professionalmente. Ce ne andiamo in un pub e parliamo di che rivelazione era stato quel film. Il nostro corso, fino a quel momento, era stato abbastanza deprimente. La maggior parte di noi volevano considerarsi scrittori d'avanguardia e i nostri professori erano tutti realisti commerciali della scuola del New Yorker. E mentre da una parte odiavamo questi insegnanti e ci offendeva la freddezza con cui accoglievano la nostra scrittura sperimentale, dall'altra stavamo anche cominciando a renderci conto che la gran parte della nostra produzione d'avanguardia era di fatto solipsistica, pretenziosa, autoanalitica, masturbatoria e pessima. E così quell'anno. Ce ne andavamo in giro, odiando noi stessi e chiunque altro. E senza la più pallida idea di come poter migliorare, continuando a sperimentare, ma senza soccombere la disgustosa pressione del realismo commerciale, eccetera, eccetera. Considerate che questa era la situazione in cui ci trovammo quando Velluto Blu fece una tale impressione su di noi. La vera rivelazione per noi non furono tanto le evidenti tematiche del film, il lato oscuro della rispettabilità da chiacchiere fra vicini in giardino, l'unione di sadismo, sessualità, autorità familiare, wireismo, pacchioneria pop anni cinquanta e fine dell'adolescenza, quanto la sensazione che davano il surrealismo e la logica onirica del film davano la sensazione di verità, di realtà. E quel paio di cosetti in ogni scena che erano leggermente ma meravigliosamente storte, l'uomo con la giacca gialla letteralmente morto in piedi, la non meglio spiegata maschera l'antigas di Frank, i misteriosi suoni industriali martellanti che si sentono sulle scale fuori dall'appartamento di Dorothy, la bizzarra scultura a forma di vagina dentata appesa a una parete altrimenti spoglia sopra il letto di Jeffrey nella sua camera, il cane che beve dal tubo per innaffiare e che rimane in mano dal padre colpito dall'attacco di cuore non era. Non era soltanto che questi sembravano tocchi di eccentricità, sperimentalismo o generità artistica, ma che comunicavano qualcosa che sentivamo come vero. Velluto Blu coglieva qualcosa di fondamentale nel modo in cui la realtà dell'America contemporanea agiva sulle nostre terminazioni nervose, qualcosa di fondamentale che non poteva essere analizzato o ridotta a un sistema di codici, principi estetici o tecniche narrative dal laboratorio di scrittura. Per questo Velluto Blu fu un'epifania per noi studenti freschi di laurea quando lo vediamo per la prima volta. Il film ci aiutò a capire che lo sperimentalismo di primordine era un modo non di trascendere o di ribellarsi contro la realtà, ma di fatto di renderle omaggio. Ci aprì gli occhi attraverso delle immagini e cioè il mezzo di comunicazione con il quale eravamo praticamente stati allattati e rispetto a cui avevamo la massima credulità ci aprì gli occhi sul fatto che le forme più importanti di comunicazione artistica avvenivano a un livello che non soltanto non era intellettuale ma non era neppure pienamente cosciente e che il vero mezzo di comunicazione con l'inconscio non era verbale ma visivo e che non era tanto importante che le immagini fossero realistiche, post-moderne, espressionistiche, surreali o che cavolo ne so io, quanto che dessero una sensazione di verità, che facessero bingo nella testa del destinatario. Non so se sto dicendo cose sensate ma questo in sostanza è il motivo per cui Deb Lynch è importante per me come regista. Sento che mi ha mostrato qualcosa di autentico e importante, quel 33 1986 e non avrebbe potuto farlo se non fosse stato se stesso nella maniera più diretta e nuda, senza alcuna pretenziosità o sofisticazione, un sé che comunica innanzitutto se stesso, un espressionista. Se poi il suo espressionismo sia naif, patologico o post-modernamente, ipersofisticato, mi importa poco. Quello che è importante è che è venuto blu, fece bingo e che resta per me un esempio di eroismo artistico dei nostri giorni. Il libro che ho contribuito a tradurre è quello da cui leggo, un testo che ho tradotto io stesso. Quindi Etenis Tributri con il nome ti è tornato. L'esperienza di traduzione è stata esaltante. La lingua di Wallace è particolarmente difficile, non tanto nel sintassi quanto nella ricchezza delle sfumature di significato e nel lessico. Wallace mi ha sempre dato l'idea di uno scrittore che appartiene non solo a una generazione futura, ma a una specie futura. Io leggo due brani da Invadenti Evasioni, un reportage del 94, pubblicato nel 94, su una fiera statale tenuta in Illinois, una fiera centrata sui prodotti agricoli e zootecnici, ma che in realtà comprende molte altre cose. Nel secondo brano, che termina il reportage, Wallace, il reporter, fa una capatina in quella che si chiama Valletta Felice, è della zona della fiera in cui ci sono le attrazioni acrobatiche, tipo montagne russe e cose del genere. Una delle poche cose che ancora mi manca della mia infanzia nel Midwest è la strana, illusoria, ma irrimovibile convinzione che qualsiasi cosa mi circondava esistesse in tutto e per tutto solamente per me. Sono l'unico che da bambino provava questa bizzarra, profonda sensazione? Che ogni oggetto esterno esistesse solo in quanto influiva su di me, in qualche modo? Che ogni singola cosa fosse, per il tramite di una qualche misteriosa attività adulta disposta unicamente a mio beneficio? Non c'è nessuno che si identifichi con questo ricordo. Ecco, il bambino esce dalla stanza e tutto quello che c'era nella stanza, una volta che non è più lì a vederlo, si liquefa in una sorta di vuoto di potenziale, oppure, come nella mia teoria infantile, qualche adulto prima nascosto la rotola e lo stipa, fino a che il prossimo ingresso del bambino richiama il tutto in animato servizio. Ero matto? Questa convinzione, è chiaro, era radicalmente autocentrata e per di più piuttosto paranoide. E poi la responsabilità? Tutto il mondo si dissolveva e risolveva al mio solo battere le palpebre. E se non avessi aperto gli occhi? Forse quello...